Bella discepoli e benvenuti in questo nuovo video Scusate se parlo piano, sono le 2.03 di notte Andrò a fare un break ai miei genitori Il break consiste nel mettere la musica a balla Una musica hardstyle Mi sta dubstep che fa un casino della Madonna Più sbalderli vicino alle orecchie I pentolacci raga, fidatevi Se non mi cacciano via oggi da casa Non mi cacciano via più Farò un inquadratore con questa E un'altra inquadrata con l'altra delle camera Che sta nella loro camera Non ci perdiamo in chiacchiere Vai col break Ci siamo Vado ad attivare la luce E metto la musica a balla Aspettate Sono le 2.11 di notte Andiamo In questo video I tienen un po' di mezzo Andiamo Proprio Iganche E io 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 beh ah Eccoci Lo scherzo è riuscito Gli ha preso una paraccia Mi pare che sta in coma Ah ma sono le due di notte Saluta E' un po' appunto perché non mi chiamano Ecco Ah regà sono le due di notte L'ho fatti saltare da letto Ho cominciato a sonar tutto Io spero che questo video Vi sei piaciuto Mi raccomando Lasciate like al video Quello ancora suona Da Erprete è tutto Nella camera dei genitori De Erprete Sono saltati tutti E' successo un panico vero Fortuna che non erano i ladri No fortuna che non ci abbiamo Un'altra cosa Bella per voi Un bacio e soprattutto Buonanotte Esatto Piano ammalisi Buonanotte ma Buonanotte buonanotte Buonanotte